Maria Francesca Crespini, direttore artistico e presidente dell'Ars Urbino Ducale. Una festa della città, una festa del coinvolgimento, dove non mancherà assolutamente nulla. Cerchiamo di entrarci in questa festa, di far invogliare, senza svelare tutto ovviamente, chi ci ascolta. Certamente, sì, oramai la macchina organizzativa dell'Ars è diventata imponente, per cui lavoriamo tutto l'anno per questa festa e quindi la città oramai è coinvolta, perché appunto è dal 2007 che lavoriamo con tutte le associazioni e la festa è cresciuta e finalmente ogni cittadino d'Urbino, se gli dici che festa è, dopo chiaramente la festa dell'Aquilone, arriviamo noi, perché la festa dell'Aquilone è una cosa, una passione oramai proprio del cuore. Però stiamo anche noi, ecco, così guadagnando terreno e la festa ha questa doppia veste, quella più colta di Palazzo Ducale, con il teatro a palazzo, grandi artisti internazionali, appunto apriamo con Michele Placido e poi appunto la giornata del venerdì, c'è il maestro Barami di FAMI internazionale, il più grande esecutore di BAC, e poi Kirossi Stewart, quindi chiude queste tre giorni a teatro a palazzo, ma ancora spettacoli. La città sarà tutto un teatro. Però poi la città ci sarà veramente la festa, in ogni vicolo ci sarà qualche animazione, ci sono soltanto per il venerdì 40 spettacoli e quindi dalle 14.30 fino alle 24 ce ne saranno per tutti i gusti, le locande, ci sono più di 20 punti suggestivi di ricostruzione di giardini, di appunto di locande, dove poter mangiare e dove poter rifucillarsi. E poi grande fiera, percorso Garibaldi per via Mazzini, i madonnari di Verona saranno per via Raffaello, un'importante sezione di mercato storico ci sarà anche in via Bramante, oltre che chiaramente qua su nella zona monumentale, dove veramente ci sono artigiani di livello nazionale, le eccellenze diciamo dell'artigianato italiano, tutto quest'anno dedicato per essere appunto così di appoggio alla mostra, il Montefetto e l'Oriente Islamico, tutto dedicato al tesile, alla seta, e quindi ci saranno tutti i laboratori, la colorazione dedicati appunto. Ricordiamo che l'apertura in anteprima sarà il 9 agosto con Michele Placido, poi nei giorni 10, 11 e 12 la festa, e il 12 anche la rievocazione storica. Certamente, chiudiamo appunto con la nostra festa, la rievocazione riconosciuta dal Mibact, grazie alla quale poi il Palazzo Ducale ha potuto avere la riduzione del biglietto, quindi chi ha l'ingresso, il biglietto di 5 euro di ingresso alla festa, poi potrà entrare a Palazzo Ducale con il biglietto ridotto, alla Casa di Raffaello con il biglietto ridotto, e anche al Museo Bella Gerit, su in Fortezza Albornoz appunto, avrà questa riduzione, per cui i 5 euro poi si annulleranno, perché vanno appunto nel guadagno delle riduzioni. Sindaco, ci prepariamo ad una grande festa, la festa della città. Sì, la festa del Duc, appunto la festa della città di Urbino, che sta crescendo in termini di spettacoli, di struttura, e quindi sta continuando questa grande festa che tutti gli anni si ripropone, quest'anno un po' di giorni prima, perché appunto la concomitanza col fine settimana, quindi non si va a finire il 15 agosto, ma finisce due giorni prima. È una grande festa di tutta la città, grande collaborazione fra le istituzioni, quindi Palazzo Ducale, che ha dato apertura già dagli anni scorsi a ospitare la festa della città, e quindi questo è secondo me un grande risultato, perché tutte le organizzazioni della città, le contrade, gli arcieri, le associazioni stanno tutti collaborando per far sì che questa festa funzioni bene. È una chiusura di tutta la città, mi scuso comunque per quanti dovessero avere e avranno dei disagi a usufruire della città, gli abitanti, i residenti, quindi le attività commerciali, che in quei giorni purtroppo avranno dei piccoli disagi, piccoli o grandi disagi in alcuni casi, però ecco, credo che questa sia una festa che vada fatta, che comunque si debba continuare e ringrazio chiaramente Lars, la sua presidente Francesca Crispini, per aver collaborato con l'amministrazione in modo più stretto anche rispetto magari agli anni scorsi, perché per le note vicende che ci coinvolgono, però ecco, c'è stata l'intelligenza di capire l'interesse della città da parte di tutti, quindi questa è la cosa che mi rende felice.